Benvenuti nel mondo di Glicine. Glicine è un marchio di orologi svizzero con una storia che risale al 1914. Fondato in Svizzera a Bienne, Glicine è noto per la sua storica produzione di orologi di alta qualità, con una particolare attenzione ai dettagli e alla precisione. Uno dei modelli più famosi di Glicine è l'Herman, un orologio da aviatore introdotto per la prima volta nel 1953. L'Herman è considerato uno tra i pionieri della complicazione GMT. Questa complicazione permetteva ai piloti di visualizzare nello stesso momento due fusi orari diversi durante i voli transcontinentali. Il design dell'Herman è stato aggiornato nel corso degli anni, ma il modello originale è ancora molto popolare tra i collezionisti di orologi. Ma Glicine non ha prodotto solo orologi da aviatore. Il marchio offre una gamma di modelli che spazia dalle versioni classiche a quelle sportive, come il Combat, un orologio sportivo caratterizzato da una cassa robusta e una resistenza all'acqua fino a 200 metri. Il modello 104F, ispirato ai jet da combattimento, presenta una cassa in acciaio inossidabile resistente ai graffi e un quadrante con una grande finestra della data. Altri modelli noti di Glicine includono il Golden Eye e il Lagunare. Glicine è anche conosciuto per la sua certificazione COSC, che garantisce la precisione dei movimenti degli orologi. La certificazione COSC è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta un marchio di qualità per gli orologi di lusso. Glicine è entrato a far parte dell'Invicta Watch Group nel 2016. E oggi, nonostante questa acquisizione, rimane uno dei marchi storici più rilevanti e ricercati nel settore dell'orologeria di lusso.